L'artista esistenzialista, la donna del mistero. Signora, buonasera, che cosa ci fate qua? Sto prendendo vento. Ma come chiedete? Una volta dicevano sto prendendo sole, oggi è cambiato tutto e sto prendendo vento? E cosa ci dite di bello? Che il vento è freddo. Il vento è freddo e allora bisogna un pochettino stare lontani da questo vento perché può comportare dolori, no? Non è possibile, è nell'aria. È nell'aria, è gironsola questo vento, è un vento malsano per certi versi, non so. È leggiadro, no? Squisito, piacevole. Per ora che c'è il sole, sì. Come si sta bene, vero? Bella paesaggistica, tranquilla, rilassata e quanto altro. Ah, sta sigaretta, sta sigaretta, le sigarette fanno male. Tante cose fanno male. Eh, lo sapevo, mi aspettavo, è vero, tante cose fanno male. È vero, tante cose fanno male. Che cose ci dite di bello allora? Ah, metti davanti al sole che non riesco a vedere, con tutti gli occhiali non vedo niente. Mi metto così? Eh, ma così ma non ti vedi tu. Ah, un po' d'ombra. Scherzi a parte, dimmi giusto due parole che poi il video lo concludiamo. Dai, che cose mi vuoi dire di bello? Sì, perché siamo un po' più bellissimo. Eh, beh, certo, si sta tranquilli, rilassati. Quanta gente che c'è, eh? Vedi, quante orme, tratteggi, si chiacchiera, ragazze, uomini, donne, c'è di tutto. Animali non ce ne sono stavolta, però. Eh? Animali non ce ne sono. No. Va bene? Ja, dimmi qualche cosina e poi chiudo, dai. Senti che dobbiamo andare via. Va bene. Salutiamo il popolo di YouTube, sì? Eh? Lo salutiamo? Ah, ciao. Ciao. Saluti, signori mi. Fortunato e Liliana. Mandi il bacino, se no non chiudo. Ah, il popolo di YouTube. Come? Sì, io l'ho mandato, dai. Ciao. Ciao.